Ciao a tutti! Oggi prepareremo i panini tipo salto in bocca o panini di pizza. Il tempo di preparazione della ricetta è di tre ore circa. Gli ingredienti sono latte, acqua, zucchero, olio evo, lievito di birra, farina di tipo zero, farina di tipo manitoba, sale. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, l'acqua, lo zucchero e il lievito. Ed azioniamo il bimbi per tre minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la farina di tipo zero, la farina di tipo manitoba, l'olio, e il sale. Ed acceniamo il bimbi per sei minuti in modalità sfiga. L'impasto è pronto. Trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento per 1 ora e 30 minuti circa. Abbiamo ripreso l'impasto, adesso lo divideremo in panetti da 100 grammi l'uno. Stendiamo i panini con il mattarello. posizioniamo su una teglia rivestita con carta da forno. Abbiamo speso i panini, adesso li andremo a infarinare. Li facciamo lievitare per un'ora in forno spento. trascorso il tempo abbiamo ripreso i nostri panini, adesso li andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 10-15 minuti circa. I panini sono cotti, lasciamoli intiepidire prima di servire. Panini tipo saltimbocca o panini di pizza. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!